ecco qua oggi vogliamo provare a fare l'uovo di pasqua dato che nessuno mi regalerà l'uovo di pasqua mo me lo faccio uno stampino preso da provare vediamo un po cosa ne è dato cosa salterà fuori tata vediamo questo è lo stampino cioccolato allora avevo dei pezzetti di cioccolato fondente fondente al latte e quelli con la coi cereali facciamo un bel mix facciamo un nuovo un po particolare quindi adesso inizierò a fondere questo cioccolato di cui una parte di questo lo terrò da parte perché servirà per temprare il cioccolato dopo facciamo insieme utilizziamo multi cooker di ariete per fondere il cioccolato 450 grammi di cioccolato con la funzione fusion metal pronto che propone cioccolato cioccolato si è fuso con la nostra multi cooker lo travasiamo ok aggiungiamo un poco alla volta quello freddo per stemperarlo si raggiunge una temperatura di 30 gradi quanti gradi sono adesso 41 gradi ok dobbiamo portarlo a 30 31 gradi proviamo 36 gradi Grazie per la visione Perfetto! Perfetto! Allora, adesso queste le teniamo un po' da parte. Prendiamo il nostro stampo. Ora versiamo in uno. E nell'altro. Adesso dobbiamo fare andare il cioccolato nei bordi. Vediamo un po' come è venuto questo. Se è venuto fuori qualcosa. Spallimento. Però dell'uovo si spacca. Buono! Non è anche male. Vi faremo.